Ben ritrovati telespettatori di CatalanTV, la situazione Covid in primo piano con la variante delta che ha riportato in tutta Italia un aumento di contagi. Proprio la Sardegna è tra le regioni con l'indice più alto ma per ora è scongiurata la zona gialla. Dal Ghero una quarantina ai casi ma intanto due locali a Lido hanno deciso, hanno dovuto chiudere precauzionalmente. Nessun allarmismo sia chiaro però la situazione è da monitorare attentamente in Sardegna così come ad Alghero. Intanto va detto che in città non c'è stato un aumento esponenziale di casi come era invece avvenuto inizio mese. Ora sono 42 i positivi e una quarantina anche le persone in isolamento domiciliare. Numeri ai quali fanno da contraltare quelli particolarmente importanti del lab vaccinale che negli ultimi giorni viaggia a una media di 900 somministrazioni. Ma non è passata inosservata la chiusura temporanea di due locali a Lido anche perché sono stati gli stessi titolari a renderlo noto con dei post sui social. Si tratta del ristorante e pizzeria Les Arenas e delle Bahia Beach Club. A seguito della presenza di un nostro dipendente risultato positivo al Covid per tutelare la vostra salute e quella del nostro staff ci vediamo costretti a titolo precauzionale alla chiusura temporanea, hanno scritto i responsabili del ristorante. Sarà nostra cura avvisare tempestivamente della ripresa delle attività previa autorizzazione degli organi sanitari attraverso i consueti canali di informazione. Altrettanto hanno fatto i titolari del Bahia, in questo caso in via precauzionale per un contatto avvenuto tra un membro dello staff e una persona risultata positiva al Covid. È una decisione importante dettata dal fatto che equilibrare responsabilità e divertimento è sempre stata la nostra priorità, hanno scritto nella pagina social. È chiaro comunque che la situazione a livello generale è da monitorare per non gettare alle urtiche una stagione che per il settore del turismo può essere quella di una prima graduale ripartenza. Anche per questo il Governo con le regioni sta valutando nuovi parametri per i passaggi di fascia. Per un eventuale cambio di colore, assicurato ieri il Ministro della Salute Roberto Speranza, peserà di più il tasso dei ricoveri rispetto agli altri indicatori. In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione contro il Covid, secondo il Ministro, è infatti ragionevole che nei cambi di colore, nelle conseguenti misure di contenimento, pesi di più il tasso di ospedalizzazione. Proprio la Sardegna, però, assieme a Sicilia e Veneto, è tra le regioni più a rischio zona gialla, ma va anche detto che potrebbe non essere la zona gialla che abbiamo imparato a conoscere nei mesi passati, certo con qualche restrizione in più rispetto alla zona bianca, ma non troppo pesante. Vediamo ora anche i dati dell'ultimo bollettino dell'unità di crisi regionale, nel quale sono stati riportati 140 nuovi casi a fronte di 4.160 tamponi eseguiti. Non si sono registrati nuovi decessi, mentre è fondamentalmente stabile la situazione riguardante i ricoveri ospedalieri. 43 pazienti in area medica, uno in più rispetto al report precedente, tre in terapia intensiva. Attualmente in Sardegna sono 1.353 le persone in isolamento domiciliare, mentre i guariti registrati ieri sono stati 5. Sul fronte della campagna vaccinale, invece, l'ultimo dato a disposizione è quello della giornata di giovedì, con 18.717 persone vaccinate. 4.728 hanno ricevuto la prima dose, 13.989 la seconda, con il 91,7% delle dosi a disposizione somministrate. La Sardegna è settima tra le regioni italiane. Intanto sono arrivate nell'isola altre 53 mila dosi del vaccino Pfizer e sono attese anche ulteriori dosi di Moderna. Cambiamo argomento. La giunta comunale, su proposta dell'assessore alla cultura e turismo Marco Di Gangi, ha dato il via libera alla fruizione pubblica del sito archeologico della Villa Romana di Sant'Imbenia. Con il pieno coinvolgimento della soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, guidata dal professor Bruno Billeci e il coordinamento della funzionaria responsabile della tutela archeologica Gabriella Gasperetti, è stato deciso di affidare al Parco di Portoconte la gestione dei servizi di fruizione del sito, grazie ad un protocollo e ad un accordo di collaborazione tra il Comune di Alghero e la stessa azienda Parco. Quest'ultimo accordo, ha spiegato il sindaco Conoci, ratifica la volontà di consolidare l'obiettivo di incrementare e rafforzare le politiche pubbliche di conservazione, valorizzazione e fruizione pubblica della Villa Romana di Sant'Imbenia, disciplinando la collaborazione fra l'amministrazione comunale di Alghero e l'azienda speciale Parco di Portoconte. A breve, finalmente, uno dei gioielli del patrimonio archeologico del territorio algherese potrà essere visitato. Un altro importante attrattore turistico finalmente viene messo a disposizione del pubblico, contribuendo a rendere sempre più ricca l'offerta culturale, archeologica e passaggistica del nostro territorio, ha aggiunto l'assessore di Gangi. La gestione dei servizi di guardiania, manutenzione ordinaria, accompagnamento ed informazione turistico-culturale del sito archeologico viene attribuita quindi all'azienda speciale Parco di Portoconte con un triennio a partire dall'anno in corso, anche grazie alla disponibilità dell'area su cui si trovano i resti della villa che la società proprietaria, la stessa dell'hotel Baia di Conte, ha concesso all'azienda Parco per 20 anni a decorrere dal 2015. Un risultato importante, ottenuto grazie alla piena collaborazione e condivisione di obiettivi dell'amministrazione guidata dal sindaco Conoci con il Parco di Portoconte nelle persone del presidente Raimondo Tilloca, dei consiglieri Adriano Grossi e Lina Bardino e del direttore Mariano Mariani, nonché della IFIT Sogat, spa proprietaria dell'area. Auto che ostruiscono gli scivoli per diversamente abili o che si piazzano sulle strisce pedonali, parcheggi selvaggi che molto spesso rendono la vita ancora più difficile per i diversamente abili. Ma pensiamo anche alle mamme con passeggini che fanno davvero fatica a passare sui marciapiedi che sono costretti a degli slalom spesso pericolosi. Le foto che stiamo vedendo le ha inviate alla nostra redazione Elisabetta Cambule dell'associazione Una Manotese, referente regionale del Condav, Coordinamento Nazionale Danneggiati da Vaccino, che ancora una volta ha voluto denunciare l'inciviltà di alcuni automobilisti chiedendo il pugno di ferro per situazioni come queste che purtroppo sono all'ordine del giorno. Una questione di civiltà e di rispetto per i più deboli che troppe volte purtroppo viene ignorata. Ora ci fermiamo, facciamo una pausa. C'è la pubblicità? A tra poco. Ritorniamo in studio. È stato approvato il calendario scolastico 2021-2022 anche per la regione Sardegna. inizierà il 14 settembre prossimo per tutte le scuole di ogni ordine grado. Lo ha stabilito l'aggiunta regionale su indicazione dell'assessore alla pubblica istruzione Andrea Bianca Reddu. Le lezioni termineranno invece il giorno 8 giugno per tutti gli ordini e gradi di istruzione, mentre la fine delle lezioni per le scuole dell'infanzia è prevista per il 30 giugno 2022 in considerazione della specificità del servizio educativo offerto. Gli adattamenti del calendario scolastico, sottolinea Bianca Reddu, sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa. Lo stesso calendario, prosegue il delegato della pubblica istruzione, si configura come strumento di programmazione territoriale in considerazione delle ripercussioni che le scansioni temporali stabilite hanno sull'organizzazione della vita familiare e degli alunni, nonché dei servizi connessi alle attività didattiche, tenuto conto anche dell'impegno assunto dalle competenti autonomi e locali. Il totale effettivo delle lezioni è stabilito in 203 giorni. Le istituzioni scolastiche nel rispetto del monteore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie possono disporre gli eventuali ed opportuni adattamenti del calendario scolastico d'istituto debitamente motivati e deliberati, si legge ancora nella nota ufficiale dall'istituto scolastico formativo che devono essere comunicati tempestivamente alle famiglie entro l'avvio delle lezioni. Ed ora vediamo invece quali sono gli appuntamenti di questo fine settimana ad Alghero. Dalle ore 19 ancora il Festival Mediterranea che anche ieri, lo vedete dalle immagini, ha animato lo spazio dell'ex mercato civico. In programma questa sera la rassegna editoriale da sponda a sponda che prevede il dialogo tra Isabella Camera Dao, Maria Abino e Bastiana Madau. Alle 20 spazio alla rassegna editoriale Il mare è salato, il Mediterraneo di Dante, Petrarca e Boccaccio. L'autrice Roberta Morosini dialoga con Alessandro Marongiu. Nel teatro civico alle ore 20 e 30 ci sarà Just Forever, semplicemente per sempre, testo, regia, scene e costumi di Virginia Garau, oggetti di scena di Rossella Sestu, gioielli di Nigeria Floris, le musiche originali di Paolo Congia, la produzione per la compagnia teatro d'inverno, compagnia, scusate, teatro Tragodia, a cura della compagnia teatro d'inverno. Mentre il palco del Qualtè ospiterà alle 21 e 30 Giosal Ghe, Gaetano Riccobono with the Strings, New York State of Mind, parte 2, il concerto di Gaetano Riccobono alla voce, Mariano Teddi al piano, Salvatore Maltano al contrabbasso, Massimo Russino alla batteria, Michelangelo Lentini, Francesco Fadda, Matilde Podda ai violini, Francesco Spano alla viola, Paolo Teddi al violoncello, a cura della Bayou Club Events, ma sentiamo le parole proprio di Riccobono. Ciao amici di Alghero, domani mettiamo in scena, va di scena questo progetto che si chiama Gaetano Riccobono with Strings, da un'idea di Massimo Russino, tentativo di coniugare il sound e l'andamento, la pulsazione jazzistica con il lirismo degli archi. Ho scritto gli arrangiamenti apposta per questo concerto, quindi sono molto contento e ansioso poi di sentire effettivamente on the stage quello che succede. Ed ora vediamo anche gli appuntamenti per la domenica, perché domani è in programma alla Scala Piccada, che ritorna ad essere tappa del campionato italiano, sempre domani alle 19, restate a Teatro Ragazzi, il seconda edizione del Festival Fia Barrette, esperimento di stand-up telling, attività per bambini a cura dell'Uteatri di Ignazio Chessa nel Giardino Museo del Corallo. Dalle ore 20 il Festival Mediterranea si trasferisce al Nuraghe Palmavera, col doppio appuntamento attaccati alle radici, immagini e storie di alberi della Sardegna, dialogo tra Enrico Spano e Lello Caravano. Alle 21 e quindi uscimmo a rivedere le stelle, una breve dissertazione sul cielo dantesco di Gian Nicola Cabizza, a seguire osservazione astronomica a cura della società astronomica turritana. Alla stessa ora, ma sul palco del Qualtè, l'atteso concerto dal titolo Hoiços de Gatto, ovvero il tributo e domaggio a Gatto Barbieri. Dalla cultura e musica ai motori, come vi abbiamo annunciato domani la sessantesima edizione dell'Algero Scala Piccada è pronta ad accendere i motori da questa mattina e 76 concorrenti verificati se allineranno sulla linea dello start per la prima delle due mance di ricognizione dei 5.100 metri di percorso ricavato sulla spettacolare panoramica SS 292. La strada statale sede del percorso sarà chiusa al transito dal chilometro 0 e più 600 sino al chilometro 11 nel tratto interessato dalla competizione dalle 7 della mattina fino al completamento della manifestazione. Tutto pronto dunque all'accensione dei motori da gara dopo le operazioni preliminari che si sono svolte ieri nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. L'organizzazione coordinata dallo stesso presidente della Cisassari, Giulio Pes di San Vittorio ha previsto anche un bus navetta per raggiungere il percorso che partirà in entrambe le giornate alle 7.30 presso la zona paddock di via De Gasperi alla volta dell'arrivo all'angolo via Berlinguer con rientra alla fine delle prove della gara. Tutti presenti i big del tricolore, l'iniziale dei piloti Sarri, Giuseppe Vacca su Osella Pia 2000, Marco Satta su Osella FA30 Zaytech, Massimo Pugeddu su Nemesis, ma anche Igor Nonnis sulla Wolf GB 08 Thunder e Mario Murgia su Mitsubishi Evo X del gruppo N. A mare invece la vigilia per Sergio Farris che non potrà prendere il via per un incidente che ha coinvolto il mezzo sul quale viaggiava la sua Lola prima dell'imbarco alla volta della Sardegna. Per gli altri gruppi tutte presenti le supercar del GT come le due Alfa 4C in versione Silhouette del gruppo E2SH, le estreme auto del gruppo E1, le vetture di gruppo A ed N e poi le fonte categorie di Racing Start Plus Cap, RS Plus ed RS. Insomma sarà una domenica di appuntamenti e di motori che farà contenti i più appassionati con l'Algero Scalapiccada. È tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale che ritorna puntuale lunedì alle 13.30. Io vi auguro un buon fine settimana. Arrivederci.